L'intera Calabria è sotto la stretta morsa del maltempo. Già dalle prime ore di questa mattina le forti piogge e raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 km orari imperversano su tutto il territorio regionale. Nella giornata di ieri la protezione civile regionale aveva diramato l'allerta meteo arancione su tutto il versante tirrenico e in diversi comuni, seguendo il protocollo, avevano segnalato ai cittadini di non lasciare le abitazioni se non fosse stato necessario. Diverse le chiamate al centralino dei Vigi del Fuoco, ma al momento non si registrano danni a persone. Così purtroppo non è per le cose. In pieno centro, ieri a Cosenza, nell'isola Pedonale, le forti raffiche di vento hanno abbattuto le transenne nell'ultimo tratto canterizzato dell'isola Pedonale. Le barriere sono finite a terra, rendendo molto difficile la percorrenza del tratto lasciato. Diversi sono gli alberi caduti, in particolare a Cadanzaro. Molte strade sono state interrotte proprio per questo motivo. Una donna è finita contro l'albero che è stato sdradicato con la propria autovettura, senza però ferirsi gravemente. In particolare nella Locride si registrano diverse chiamate ai centralini dei Vigi del Fuoco. L'intervento dei pompieri di Siderno ieri con due grossi mezzi. Uno nella strada che porta a Siderno Superiore, dove diversi muretti sono crollati a margine del manto stradale. Mentre nella strada che porta a Canalo, una donna è rimasta chiusa all'interno della propria abitazione ed è stato necessario l'intervento dei pompieri. Ci sono diversi problemi e criticità che si segnalano un po' ovunque, su quasi tutto il territorio della regione, anche se non c'è un quadro di emergenza. Nell'ultimo bollettino, aggiornato proprio a questa mattina, il centro funzionale multirischi dell'Arpagal comunica che la regione, come buona parte della penisola, è interessata dagli effetti di una saccatura che causa diffuso maltempo e forti venti dai quadranti occidentali. Per la giornata odierna non sono state registrate finora precipitazioni particolarmente elevate. I picchi più elevati si registrano sul Pollino, con 60 mm di pioggia in 12 ore, e sulla Sira, con valori nell'ordine dei 50 mm. Nelle 24 ore i dati più significativi sono nell'ordine dei 60 mm sul bacino del Savuto e 90 mm sul massiccio del Pollino. Il centro funzionale multirischi sicurezza del territorio dell'Arpagal infine comunica che la giornata odierna e quella anche per domani ha diramato il livello di arretta per rischio idrogeologico giallo, rendendo noto che continuerà a monitorare costantemente la situazione ed a fornire aggiornamenti periodici sull'evoluzione dei fenomeni.